In questa fantastica giornata andiamo a vedere come stanno affrontando i ragazzi il loro primo giorno di scuola Così facciamo anche qualche domanda, andiamo! L'annunzio era un... Che ne so, non l'abbiamo ancora fatto l'annunzio Estè? Vabbè, che cos'è? Sparala! Sarà un letterario Estè? Estè Estè? Estè tista Estetista, esatto Che cos'è? Un estè Un estè? Un estè? Esterno destro Un esterno destro Quanti sono i principi fondamentali della Costituzione italiana? 51 800 800 Dicando così Dimene uno Non rubare Non rubare Cosa ne pensi della sinestesia? Non saprei proprio Una malattia ma non credo Un... Un'anestesia Esatto, un'anestesia È giusto? Chi vuole essere lieto? Chi vuole essere lieto? Chi vuole essere lieto? Chi vuole andare a fare i... Se mi chiedi come va Va bene, 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 bene Ma non benissimo Bene, 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 bene Ma non benissimo